Oggi siamo qui e oggi vi invitiamo a calpestare le nostre strade ogni giorno! Ogni giorno dovete dichiarare chi siete! Fate sentire il vostro valore! Siate orgogliosi di voi stessi! Qui tutti insieme noi, UDS, Como Pride e tantissime altre realtà, dimostriamo chi siamo e quanto valiamo! Quindi adesso ricorderemo un attimo qual è che è il tema di questo bellissimo Pride perché appunto abbiamo ricordato che non sarà soltanto un momento di festa ma bensì di lotta! Oggi vogliamo rivendicare Como come una città per tutto! Perché per tutto? Perché a Como non c'è spazio in realtà per un cazzo di nessuno a parte per i borghesi di merda! E quindi ricordiamo a questa città che siamo pieni di froce, froce incazzate! Vogliamo, cioè esigiamo chiaramente una cazzo di città che sia accessibile non solo socialmente perché appunto appena si esce dalla città di Como la provincia sembra essere abbandonata totalmente a se stessa Vogliamo una città accessibile appunto socialmente, economicamente e soprattutto architettonicamente Poiché appunto Como si presta ad essere una città estremamente abilista nei confronti delle persone disabili, nelle confronti delle persone neurodivergenti, nei confronti delle soggettività fragili Che questo posto continua ad opprimere e che continua a reprimere! Quindi appunto oggi siamo qua in piazza per appunto ricordare quanto sia importante il lavoro di sintesi che quest'anno abbiamo portato avanti Per far sì che questa città fosse un posto sicuro almeno all'interno delle nostre realtà Appunto come è già stato ribadito la collaborazione tra le varie realtà, la sintesi che è la cosa fondamentale che ci fa raggiungere effettivamente degli obiettivi E che ci fa realmente creare degli spazi safe e queer verrà chiaramente manifestata oggi per le piazze Quindi mi raccomando froce, città per tutto perché Como fa schifo ricordatevelo